non vi capisco voi giovani d'oggi non avete un bricolo di buon senso pensate solo alla musica alla moda e a divertirvi nonno smettila o ti si alza la pressione e poi ti ricordo che non tutti sono uguali noi abbiamo studiato e faticato molto ed ora lavoriamo quello che fate secondo me non è un lavoro è perdere tempo capisci secondo me dobbiamo provarci non bisogna mollare scusa vibra al cielo devo rispondere pronto sì sì sono io certo sì non so sono indeciso io l'audizione l'ho fatta ho provato ma se non mi chiamano metto i miei sogni nel cassetto e vado da zio eddy a fare il contadino dovresti credere di più in te stesso e lottare per i tuoi sogni tu sei davvero bravo senti io qui metterei ampli e casse e ti passerei nella sala 2 così potremmo allenare il gruppo del pomeriggio nella 4 esperiamo che il sindaco dia l'ok per lo spettacolo no tesoro mettiamo le casse in sala 3 marta ha bisogno della sala per i principianti e poi ci sono le audizioni e madame le or vuole farle qui vedrai che daranno il benestare conviene a tutti speriamo che siano pronte per il saggio per quello che vedo oggi non ci siamo per niente non essere pessimista vedrai che miglioreranno nella vita bisogna essere positivi ciao sia sapevo che saresti arrivata dobbiamo fare un discorso sull'autostima e parlare un po è tanto che non facciamo una chiacchierata non puoi continuare ad essere preoccupato e depresso io ti consiglierei di vedere un terapeuta o uno psicologo e magari potresti fare meditazione le ottaici per muovere l'energia nel corpo e rilassarti la lezione di oggi è andata bene mi piace linda è molto brava speriamo che non chiudano la scuola non chiuderanno vedrai quell'arpia del sindaco dovrà cedere e dovrà anche cacciare i fondi questa scuola richiama gente da tutta la contea ed è un prestigio e una fonte di guadagno per tutti secondo me tra linda e il nuovo insegnante di moderna c'è un feeling si sono accorti tutti di come si guardano però linda è timida e secondo me non ha capito che lui se la fila però se la scuola non chiude hanno ancora speranza ballare con te è una meraviglia e io sono pazzo di te lina esci con me stai con me oh dio mi fai arrossire sono di fronte alle ragazze mi vergogno tremendamente però si ti dico sì anch'io voglio stare con ti e non mi sembra di averti dato il permesso di leggere le mie lettere comunque se vuoi conoscere la decisione del consiglio puoi anche chiedere sono sempre tua madre tu non devi chiedere udienza sei così schifosamente presa dalla tua carriera e dal tuo prestigioso lavoro da dimenticarti che hai un altro figlio e ti ricordo che lui lavora all'accademia quindi se la farai chiudere lascerai senza lavoro anche danni con stupore di tutti l'arpia ha dato l'approvazione al progetto e ha deciso di stanziare i fondi direi tutto bene fatto salvo per una clausola che prevede che le accademie e gli istituti privati devono versare una parte degli incassi delle manifestazioni alle casse del comune per opere pubbliche sì certo certo non si smentisce mai sì certo è vero di quella non ci si può mai fidare comunque per ora almeno l'accademia di mia sorella non chiuderà e questo mi basta ora avviso linda sì certo ci vediamo domani ok bacione sinceramente devo dire che questo volta faccia non me lo aspettavo da te si era detto di bocciare il progetto della sovvenzione alle scuole per favorire il lotto 15 ed ora ci troviamo a non avere fondi per il centro commerciale se tu sapessi leggere fra le righe sapresti che non è affatto così rileggi bene la delibera e capirai il mio piano dicono che il sindaco alla fine ha dato il via libera alle scuole saranno felici le tue nipoti io non mi fiderei troppo del sindaco potrebbe esserci sotto qualcosa è vero però magari questa volta ha semplicemente fatto la cosa giusta tommy violinista mi piace molto è molto bravo ha uno stile particolare un tocco tutto suo direi che ci va bene se a un agente parlaci altrimenti offri il solito contratto va bene anche il tastierista lo conosciamo già lo conosciamo già Ti è piaciuto? Cosa dici lo mettiamo nello spettacolo? Assolutamente sì amore. Ora però smetti di lavorare andiamo a cena. Ho una sorpresa per te. Forza ragazze. Dobbiamo assolutamente festeggiare. Mi hanno preso per suonare e sono contentissimo. È il mio primo ingaggio. Salve sono il sindaco Tyler. Ho già emesso la delibera. Sì, naturalmente. Non si preoccupi, nel giro di due anni quei terreni saranno già degli enormi centri commerciali. Certo sì. No, non sospettano nulla. Amore lo spettacolo è andato alla grande. E io pensavo che noi potremmo continuare a ballare insieme. Per molto, molto, molto tempo. Magari finché morte non ci separi. Amore. È bellissimo. Direi che accetto. Ma le coreografie per il nostro matrimonio le decido io.